Secondo turno consecutivo fra le Muramiche per gli uomini di Di Paolo, che cercano il riscatto contro una delle compagini più attrezzate della categoria, quel San Nicolò in netta scesa ormai a caccia della zona playoff. Si parte Guardinghi, ma dopo il decimo il match cambia, diventando bello, divertente e frenetico. Dodicesimo, cross Tiberi, spostato più avanti dopo l'arrivo dell'ex Teramo ed Avezzano ad aprile, rovescia Moro in bello stile, ma il cuoio è a lato. Diciottesimo, tiro d'angolo pro San Nicolò, svetta Bagnara, Palo, ancora il numero 5 ospite, sottoporta, traversa. Rapido capovolgimento di fronte e gli angiziani passano. Ancora un angolo protagonista, ma l'inzuccata questa volta è di Capitan Ciaprini ed è precisissimo. 1-0, ma i Teramani non demordono e al ventitresimo, prima con Schiavoni e poi con Di Paolo Antonio, vanno vicini alla rete, ma Biancone si supera nel secondo caso, alla maniera dello Giulio Sergio di Europa League, per capirci. 28esimo, i Biancazzurri oggi in maglia Granata pareggiano, diagonale chirurgico di Petronio che si appoggia sul palo e poi finisce in rete. Pareggio meritato, ma gli ospiti non si fermano e al 35esimo Petronio non c'entra lo specchio per un non nulla. 37esimo, ancora San Nicolò, ma Biancone si salva grazie anche all'imprecisione altrui. Secondo tempo molto più noioso, soprattutto i padroni di casa rimangono negli spogliatoi e i risultati si vedono al 26esimo, quando la retroguardia lucchese scala male lasciando solo Soletto di Paolo Antonio che non perdona. Prova a reagire l'undici di Di Paolo e dopo 60 secondi Tiberi va vicinissimo al colpo gobbo dalla distanza, ma è bravissimo bacciaglia a cavarsela nonostante l'insidioso rimbalzo. 31esimo, il puntero Lalli, neo entrato, ne fa una delle sue e caccia dal cilindro una traiettoria magica. 3-1 è grande prova di forza degli uomini di De Vico che però, dieci minuti più tardi, subiscono il 3-2 ad opera dell'altro neo entrato di Caro, lissabile, a sfruttare un diagonale di Ranieri. Finale all'arma bianca e al 48esimo il Cannatelli ad andare vicino al Pari, ma interviene la seconda linea terramana a bloccarne le velleità proprio nei pressi della linea di porta. Cinque minuti di recupero, ma al 49esimo il signor Dionisi fischia inaspettatamente in anticipo decretando la seconda sconfitta casalinga in sette giorni per Langizia.